Ecco Gianfranco Un giorno fa, mate, allora è vero Holy shit It's true It's true Chi ha la team comp migliore? Ma in realtà abbiamo entrambi una buona team comp Credo che la team comp migliore sia la nostra Perché abbiamo sia difesa Abbiamo sia Clearing, sia engage Il problema è che in solo Q Quello loro champion siano più forti dei nostri Quindi c'è molto più difficile Fare una combo za coreana piuttosto che Mettere di Verne o di Gian Sarà tosse sta partita Ti sta triggerando Franco? Il Franco è triggerato BG BG Esports Arrivo Sarebbe carina mettere una modalità di QChampion per workare Sì, decisamente Però Magari sarebbe vero per metterci le ranked su QChampion Però Vengono workati Cioè Nel senso è difficile capire come fare Quali metti Quali champ di quale patch Che mi do Aio Belli rumore di questa skin Ok Abbiamo Doran Shield Anche lui ha Doran Shield W È straforte Mord È un peccato che non si è riuscito a stornarlo Gli ero voluto fare tanti danni in più Però è buono Mi ha fatto un bel po' di danni Lo stesso Ok Se riusciamo a tenere la barra dello shield così bassa Riusciremo a fargli più danno Diretto Perché appunto non avrà lo shield da mettersi Forse sarebbe meglio fare Non so che cosa buildare Perché mordi ci faranno tanti danni Eccola L'ha gancato a Ivern Però Questo non serve tutto a cadere Mo son cazzi nostri Mo mid Mi sa che lo snobolla Vado gli doppio longsword Che culo Ma come presa sono la kill Scusate Forse Questa partita è tosta Oh Tra ieri e oggi Tutto è sfortunato De rancato comunque Crazy Ok Non è stata questa cosa Prodotto tipo a top Volevo aspettare di fare botto o meno ma Dovrei ingaggiarlo adesso Che non c'ho la W Però Non è così facile Push un'altra W Magari tipo bot poi Guarda No guarda Gel Top è gone Minchia Cioè Il chop è veramente difficile Questo Non è così facile Non è così facile TP morde Ok Io ho preso Kill su Tristana Col TP morde Non ho preso nulla Ed è buono così Io ho flashato Ok È ok Tra virgolette Stavartita non andrà bene C'è troppo di vario pure Zed e Stagenis Andrò a mare No Soro da te Good regalo C'è la Shin Very very good Buono Molto buono Arrivo Quanto belle le emoji del pinguino col cappellino Toxic Lol 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 Sotto i raggi del sole Lui è all'otto Peridò for master wave Ho più gold di lui immagino Ok, vediamo se riesco ad andare mid E' ha tanti danni quello Ah, gioco abbastanza safe Buono, bravi che sono scappati, good 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 Ok, sarebbe buono fare anche il drago Ok Boh Beh, ha bruciato la wave inconsciente, buono Lui non ha il TP quindi non può romare Non mi morire adesso, ori Morta No Ah, c'è la Seeker Madonna, Oriana che riflessi però Uno bruno è ok Peccato che io l'ho preso morde Che ha appena fatto il 9 Mi danno solo kill Wow, ma c'è l'unione davanti Iudo, ma che cazzo Cazzo Oh, via Non ho il TP per aiutare Zack Purtroppo Però Qui sarebbe stato aiutare Zack Dico Cioè rientrare, aiutare Zack E poi perdere un po' di HP top Perché se qua Morta, Cazza e Raven Vanno su Zack Prendono una kill E prendono pure l'Herald Buono, buono Giaciamo sul drago Giaciamo sulla Toremit Se è possibile Missa Z Carebot Morta è missata un casino Non credo di aver regalato Appena tornato Non credo di aver regalato Peccato Sto tra colore È abbastanza bad Relay morde Niente passiva per Zack Appena chiudo Triforce Poi farò la rinunzata Comunque a questa partita Credo Un po' toggiola meglio qua Porca puttana Tono top Troppo importante fare Triforce Ho suonato entrambi Che è quello che volevo fare Però potrò giurla un po' meglio Però bene Flash Flash Jan è fine Flash Jan è super fine Grazie a tutti Non mi ha detto qua Botte di mortacci vostra Annullare di morde la mia è What? Non la sapevo sta cosa Clear Tu che sei esperto di kami La mia annullare di morde Non mi trascina a sé Se faccio la nel mentre Silent Observer con tre mesi Bella cane, bella silent Grazie mille del supporto Mentre e benvenuto alle canne di cane Grazie mille del supporto Nuovo bici sul canale tra l'altro Non ho capito Ho fatto l'E via Morde mi ha fatto l'E E nell'esatto momento Ho preso lo slow della rely Ma però non mi ha grabbato a sé Morde Come è possibile che Botte sia così behind Io ho cancato due volte Faccio sto wave e regalo con la triforce Ciao 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 La Torre non riesco a prenderla credo 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 Sì Sta partita Come faccio a vincere se mi metti in mezzo sfidano il trono Ecco ti ho Guarda sta partita Idem Come fai? Non la vinci Non succede tutti i game così Può succedere qualche game Come può succedere quando ti succede contro Amen Passi alla prossima e basta Continuito Idem Calcate Tag Ma Passi all'ora Tag 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 timer Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Non è troppo buono come cosa questo no? Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Allora se il drago morde non c'ho la R Mamma mia vai hai fatto un'azione Vai Yori Drago drago va bene Dovrei fare armor contro quel team Il bello di giocare bot è che magari vendo un support più safe Potrei fare pure dead dance ma C'è buona dead dance però mi servirebbe più strong armor C'ho poco HP così Dove magari bello una dead man's plate non lo so Però le dance mi da si armor che me era ok per adesso È un item ok Non fa troppo male non fa troppo male Fermiamo qua Ma qui lo mordono buono In teoria sono stra strong Esatto rock esatto Morde top sono due mid Forse li puniscono Bello 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 occhio Zed qua Morde top prendo bot Prendete mid Ma c'era il minion prima Ma c'era il minion prima Poco app buono Comunque tutto questo è andato perchè abbiamo fatto quello a baron Se vi ricordate Prendete 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 Di danni Dovrebbe dare executioner pure Cioè Ho troppi Tantabilità Prendete 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 del terzo drago la soul point è stato veramente buono io credo che mordi 1v1 mi killi comunque lo credo vivamente abbiamo il redaction bisogno assoluto c'è ivern cura di ivern cura di mord cura di gianna troppo bisogno quindi lì nell'action troppo bisogno diccio 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 Grazie. 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 Che dato tristana. Se non muoio ne vuote. C'è il drago da poco. Buonissimo, buonissimo. Tpup. Z9F. Manca pure poco quello del dance, raga. Abbiamo stato enti al nascer. E via. Uff. Vediamo un po'. Per un punto. Acc музыco. Ok. mi sono tirati dietro sicuro ho giocato stra bene ragazzi ho giocato stra bene molto molto buono ben rifocussati tranquilli più 20 punti deservati fucking trash top damage really good una cosa bella sapete qual è